Ciao, sono qui al Grand Canyon e il sole è appena tramontato. È uno spettacolo veramente meraviglioso. Puoi solo essere grato quando vedi uno spettacolo del genere. Ti faccio vedere qualcosina. Meraviglioso, vero? No, la gratitudine è un qualcosa che è importante che tu inserisca nella tua vita. Quando tu non riesci più a provare gratitudine la tua vita si impoverisce. E per facilitare questo stato di gratitudine, perché magari in certi momenti della tua vita ci sono delle situazioni, c'è magari uno stato non proprio idoneo alla gratitudine a causa delle circostanze e magari a volte è proprio difficile entrare in questo stato. Quindi per non fingere di essere grato, quello che ti suggerisco è di trovare delle situazioni in cui tu possa sperimentare questa sensazione anche quando ci sono delle circostanze un pochino avverse. Un qualcosa che ti favorisce tantissimo nel provare gratitudine è sicuramente la bellezza. Ad esempio ho preso spunto da questo meraviglioso luogo perché di fronte a un panorama così meraviglioso, alla natura che si manifesta in un modo così spettacolare, non puoi non provare gratitudine. E quindi quello che ti suggerisco è quando per troppo tempo hai passato delle giornate dove non hai provato gratitudine in assoluto, di trovare uno spazio magari in mezzo alla natura, di trovare un luogo piacevole, un luogo bello dove tu possa sperimentare la gratitudine. Non deve essere per forza un luogo in capo al mondo, può essere anche un luogo abbastanza vicino a casa tua. Potresti anche sperimentare gratitudine semplicemente facendo qualcosa che ti piace o in presenza di qualcosa di piacevole tipo non so un mazzo di fiori, io odoro i fiori e quindi già solo un mazzo di fiori mi fa provare tanta gratitudine. E quindi il suggerimento di oggi è proprio quello, trova il modo di riempire la tua vita il più possibile di gratitudine perché questo ti aiuta a vibrare più alto e a manifestare una vita molto più gradevole, bella e che ti permetta di provare ancora più gratitudine ogni giorno. Ciao!